È per me un grande onore rappresentare il Consiglio regionale d'Abruzzo, ma la regione Abruzzo e tutti gli abruzzesi, nella prossima elezione del Presidente della Repubblica, che si terrà a gennaio. Oggi in Consiglio regionale abbiamo votato appunto i tre delegati e oltre al Presidente Marsiglio e al Presidente Sospiri ci sarò anche io. E come ho detto è un grande onore per me rappresentare la mia regione nell'elezione del Presidente della Repubblica, che oggi, forse in questo periodo, in questo momento storico, è ancora più importante che in passato, viste le enormi difficoltà che stiamo vivendo, sia sanitarie che economiche. Ci tengo a ringraziare tutti i miei colleghi, sia del gruppo del Movimento 5 Stelle, sia dell'opposizione, ma anche i colleghi di maggioranza per le attestazioni di stima e di fiducia che mi hanno rivolto in questa giornata, per cui sarò, come ho detto, onorata di rappresentare la nostra regione in Parlamento.